No, stai scherzando? Queste sono le pull! Cioè io con le pull posso disegnare? Posso scegliere... Ah! Posso scegliere qualsiasi cosa! Però aspetta! Signori, oggi gacha try di Cardcaptor Sakura Memory K È un RPG a turni dove pescheremo le carte effettivamente della serie di Sakura E sono attualmente nel server Sakura S2 Non ce ne sono tantissimi Non so perché l'S4 è già pullato Ma l'S1 è pullato? Oddio, ci sarebbe ancora dello spazio perché se questa è la leggenda dei server Allora rosso non sta proprio per pienissimo ma sta per una via di mezzo Nero vuol dire arrivederci, non puoi accedere Io seguo i consigli, vado nel 2 Ne hanno aperto un altro poco fa perché era fino al 4 E direi di iniziare Build! Allora praticamente dobbiamo costruire questo palco E lo possiamo fare attraverso delle monete Come si prendono queste monete? Non ci è dato ancora a saperlo Possiamo fare dei level up Uh, per ogni level up penso che scopriamo roba Vi avverto che questo è super kawaii come grafica Nooo, ma tu non puoi mettermi queste cose così caruccio Che bellino Perché è un B version ma super puccioso e super 3D No vabbè, quanto è carina questa versione Oddio, togli queste scritte e faccela guardare Si pullano le skin Questo è, questa è una pull gratis E niente È solo il suo modo di dirci ciao Grazie Sarà scriptata immagino Andiamo a vedere No, stai scherzando Queste sono le pull Cioè io con le pull posso disegnare? Posso scegliere Ah, posso scegliere qualsiasi cosa Però aspetta Ah, allora facciamo così Doveva essere un quadrifoglio Non ci fa di caso Ho fatto il logo della box Che bella Conferma Tra 29 pull Abbiamo il nostro 4 stelle garantito Quindi noi abbiamo lei che è una 3 stelle Scriptata 3 stelle Complimenti Hai il tuo primo La tua prima chibi sakura Quindi il palco sarà costituito Da tutte le nostre sakura Più rare sono le sakura Che andiamo a mettere Più monete guadagniamo Ok, allora Completando le task Passiamo avanti Dobbiamo fare una pull Nella lucky box Quindi obbligatoriamente ci fa fare Un'altra singoletta Questi sono i 4 stelle Sakura prince Anzi 5 stelle Ecco perché si dividono Tra 4 e 5 stelle Qui dentro Quindi tra 29 pull Abbiamo garantito Il 4 stelle Ma non è la massima rarità Che bella questa Vediamo Normali Alice che bello Sto vedendo un attimo i rate Non si possono vedere i rate Non me lo fai vedere Sulla i Oh Finalmente Possiamo vederli Sì Possiamo vederli Anche bene Chiaramente raga Inutile che ve lo dico È un gdt Però È uno di quelli Proprio carucci Che se avete spazio Nel telefono E vi piace sakura O anche se non vi piace sakura E avete spazio Nel telefono Per metterci qualcosa Di carino Questo è Super simpatico Perché poi È veramente chill Non c'è proprio nulla Da fare Di così tanto Tedioso Poi si scoprì Che c'è il pvp Aspetta 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 No Non volevo Non volevo Non volevo Fare questo Che cazzo È questa roba Cosa ho fatto Ho fatto Uno stelo Non lo so Facciamo un cuoricino Che però È un palloncino Ok È un palloncino Al contrario Anzi dritto In realtà Non lo so È nuova È nuova Noi praticamente Peschiamo la sakura Però ci sono Delle cose Da sbloccare Maggiore È la rarità Dei cibi sakura Più livelliamo Le sakura Più riusciamo A portare avanti Il livello Sbloccando Anche altre cose Non che con il quadrifoglio Si è andata meglio Ma quella Era la scrittata Quindi Io ci provo Questo è un super quadrifoglio Bellissimo Cuccolino Questo quadrifoglio Oh Vedi 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 È divertente Del previsto Doveva essere Una cosa Velocina Invece ci staremo Tutto il giorno Quick claim Alla froggy Sì Questa è vero Ce l'hanno regalata Con i premi Di pre-registrazione È bellina Qui abbiamo La versione Storia E c'è lo stage Quindi Iniziano i combattimenti Anacerta E meno male Andiamo a vedere La versione in italiano Nooo La turbolenza creata dal suo grido Infligge danni al bersaglio Allora Noi combattiamo con le carte Come vi dicevo Adesso ci spiega come Allora Praticamente Noi Sammonando Quindi evocando una carta Consumiamo del mana Il mana Ha un cooldown Quindi un tempo Di ripristino Ed è questo qua Immagino Ok Strisciamo la carta Direttamente sul mostro Che bella Ecco il tempo di ripristino Perché vediamo Che si carica la carta Oh mio dio Cosa ho visto Bellissimo Sta cosa Allora Io cambierei colore Lo farei giallo Sinceramente Con il giallo Farei una cosa bellissima Farei Il sole Facciamo un bel sole Come fanno i bambini E però dovrebbe essere Tutto un tratto Madonna Che schifo Forse era meglio il pipo Cazzo E' veramente Un sceno Questo sole Ecco perché Ci è uscito Una tre stelle No aspettate Dai riproviamo Riproviamo Si Si pulla Allora Proviamo a fare Un bel cuoricino Uno E due Manco in Gartic Fond Faccio così schifo Cuoricino vince sempre Ho capito Ma becco sempre La stessa Quattro stelle Non è possibile Sempre la stessa L'ho pescata Già tre volte Questa Basta Con l'azzurro Facciamo Facciamo una bella Nuvoletta Sempre tre stelle Sempre tre stelle Ma cos'è Sakura su ora Va bene L'ultima E facciamo Facciamo un quadrifoglio Con il rosa Va bene così Non vi fate domande Però sono sicura Che il rosa Ha il suo perché No E' pure un doppione Che schifus Mamma mia Abbiamo pullato Malissimo Molti Ce n'era una importante Forse Questa è nuova Tre stelle Anche questa Fa i servizi Carina Una quattro stelle Che bellina Questa Un'altra Quattro stelle Che fa sport Ok Ragazzi è uscita Alice Alice Che carina Sono contentissima Mi piace Com'è bella Bellissima Questa artwork Sono contenta Di queste pull C'è Tre quattro stelle Nella stessa Multi Non male Bellissima Sì C'è una quattro stelle O sbaglio Pijama Che bellina No Nessuna quattro stelle Quindi le animazioni Non le ho capite Però è andata bene Perché ne abbiamo presa Una nuova Signori Noi qua abbiamo raccolto Tutto quello che c'era Da raccogliere Devo dire che Si presenta Bene Questo gioco Dai È comunque un gioco Molto chill Molto carino Non Non ha nessun tipo Di pretesa Quindi è un gdt Con i fiocchi Potete giocarlo Quanto volete Quando volete Non c'è pvp Non c'è niente di particolare Non c'è niente di particolare